Il successo di un'azienda si misura con la sua capacità di stare al passo con i tempi e con le esigenze dei clienti. Regeneration Point è da anni la risposta che cercavi. Informatica, assistenza tecnica, telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici, materiale elettrico, videosorveglianza e impianti TV, ma anche cancelleria, prodotti per ufficio, scuola e giocattoli a prezzi competitivi. Regeneration Point, vieni a trovarci nei nostri locali rinnovati in via Fondovivo, Statale 106 Bova Marina, Info 0965 76 1791.